buongiorno oggi volevo farvi vedere l'ultimo mio acquisto sono delle pale in carbonio della std pro queste sono le t4 la versione long premetto ho avuto l'occasione di prendere queste pale sono usate ma sono veramente nuove veramente tenute bene quindi l'unica cosa che ho fatto è dovuto soltanto assemblare su una scarpetta della pathos le trovo molto belle anche perché la pinna così montata pesa solamente 690 grammi cioè veramente leggerissima e il carbonio comunque particolare anche la piega mi piace molto perché lavora d'acqua metà in poi ecco vedete come lavora bene quindi molto molto scattante e anche molto fine perché misurandola qua nella parte finale e 0 7 mm poi salendo arrivando qua nella parte a metà più o meno 17 e andando leggermente più alto verso la calzata che arriva 1 e 8 comunque dovrebbe essere una buona pinna se qualcuno di voi ce l'ha vuole lasciarmi scritto qualcosa per vedere come si è trovato la resa queste sono da 1.1 infatti viene riportato in questo angoletto viene scritto 1.1 ok niente non mi rimane che provare la pinna poi vi farò sapere come va ok ci sentiamo grazie